Sì, una capacità della provincia che deve essere quella di unire, di mettere in rete e di compiere un gioco di squadra tra tutti gli attori del territorio, con la provincia al timone per guidare il vascello, l'imbarcazione del sistema provincia verso le nuove sfide che ci attendono. Un esempio concreto è quello della viabilità della BAS, abbiamo messo in rete collegando due infrastrutture che rischiavano di essere sconnesse fra di loro, propria dimostrazione che attraverso il confronto con questi otto sindaci della BAS, con il coordinamento della provincia, si è arrivati a un risultato concreto. Mi ha fatto molto piacere che la firma del documento porti la firma di otto sindaci e del Presidente della provincia, è la dimostrazione del gioco di squadra che in questa circostanza, come in altre circostanze, abbiamo saputo fare.